Niente funerali, così come aveva disposto per ragioni di ordine pubblico il questore di Messina. Vincenzino Mignacca, il maggiore dei due fratelli latitanti da oltre cinque anni scovati dai carabinieri domenica mattina in un casolare di Lentini, è morto suicida dopo essere stato scoperto, è stato seppellito con una funzione strettamente riservata presso il cimitero di Braidi, la popolosa frazione di Montalbano e l'icona di cui era originario. La bara è stata portata nella cappella del cimitero direttamente da Siracusa dove era stata eseguita l'autopsia che ha confermato la dinamica resa nota dai carabinieri all'indomani del blitz. Nelle ultime ore intanto i militari dell'arma hanno chiuso il cerchio ed arrestato un'ottava persona accusata del favoreggiamento della latitanza dei due killer. Dopo le sette persone arrestate immediatamente dopo il blitz di domenica, le manette sono scattate anche per Franco Incardona, 49enne incensurato, residente a Francofonte in provincia di Siracusa. L'uomo è stato individuato dagli inquirenti come il vivandiere della latitanza dei Mignacca, colui che si occupava dell'approvvigionamento di cibo e bevande e persino del rifornimento dei giornali quotidiani. Anche egli è stato intercettato e filmato nelle sue visite al casolare di Lentini. Intanto a Siracusa sono stati ultimati gli interrogatori di garanzia per i fiancheggiatori, per i quali sono state tutte confermate le misure cautelari in carcere. Secondo la Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, che coordina le indagini condotte dai carabinieri dei comandi provinciali di Messina, Catania e Siracusa, la rete dei fiancheggiatori però potrebbero non essere ancora del tutto smantellata.